Beh, Napolitano, il Presidente della Repubblica, è un po' traballante sulle gambe, ma ha una testa estremamente lucida e ha dato il fatto suo ai cosiddetti padani, ricordandogli che non esistono e non esisteranno mai, quindi io spero che ci siano dei padani, dei cosiddetti padani, dei leghisti ad ascoltare perché è bene che sentano queste parole che non sono solo mie, ma sono di milioni di italiani che non permetteranno la nascita di una padania se fosse necessario intervenire, ma non lo sarà, non lo sarà perché loro ora, meno che mai, hanno la forza di realizzarla e Napolitano a questo punto ha deciso di dire basta, finché strillate in un frato con le corna in testa va benissimo, quando pensate davvero di fare sul serio, eh no, allora è un'altra cosa, tant'è che persino Borghezio ha parlato a questo punto, non di secessione come avrebbero detto alcuni anni fa o di indipendenza, ma di autodeterminazione, quindi sotto questa parola addolcita, addulcorata, è chiaro che intendono sempre in particolare irriducibili, intendono sempre secessione, però non la possono più dire, quindi questo è un indice della loro debolezza e non la possono più dire, nemmeno il cosiddetto zoccolo duro, che Borghezio zoccolo è, duro no, perché si vede che è flagido, ma zoccolo lo è senza altri, e quindi se persino il cosiddetto zoccolo duro è costretto a chiamare autodeterminazione la secessione, vuol dire che la debolezza politica della Lega è davvero arrivata a un livello molto alto e anche lo scontro politico che c'è all'interno tra Maroni e Bossi, è un elemento di estrema importanza e di ulteriore indebolimento dall'interno della Lega, quindi la Lega non attraversa un bel periodo, sia perché la sua base è sempre più incalzata e sempre meno disposta a farsi prendere in giro dai propri dirigenti che ormai hanno capito non essere più né padani né contro Roma ladrona, anzi sono molto romani, molto ladroni e molto non diversi, anzi peggio, di quelli che loro avrebbero voluto impiccare, dal momento che oltre ad aver salvato Milanese hanno salvato anche il mafioso romano e quindi hanno salvato un milanese e un romano, questo la dice Lomba, per cui la base della Lega è veramente furibonda e all'interno c'è un grosso scontro e a quanto pare il Presidente della Repubblica ha deciso di porre un freno a queste allucinazioni, a queste frondole, a queste faldonie di indipendenza, di padania e di secessione. Bene, avanti così speriamo che il dissenso all'interno della Lega cresca perché sarebbe un ulteriore elemento che aiuterebbe, faciliterebbe la cacciata per ignominia di questo assurdo e paradociare le governo.